Diamo Roberta si mette su TikTok Oh mamma Roberta Roberta Veglione di Capodanno 2020 Oh vai, è appena iniziata la serata Allora, la Roberta gli ha ben fatto la beuta di aperitivo D'altronde, prima di andare a cena, un aperitivo e ci sta bene Tennessino e rizzati Rigorosamente comprate il circolo Ho il discount che costa meno Dice la Roberta, io mi metto per davanti A cena ci arrivo già briaca 5 euro, 3 sciottini di vodka Di quella di merda sottomarca Ti buca lo stomaco Tanto gli è presto, gli è ancora un quarto all'otto Di mezzanotte, lo so, ha voglia, ha voglia a beute Ma è la Roberta ragazzi Comincia a accusarla Allora per ripiglio ci sta bene uno sciottino rum e pera Oh vai, sta iniziando a salire La cretinaggine Oh io mi danno gli attacchi Roberta Mi si è rotto il tacco di 16 Vai, borda nella fine Questa è l'amica che sta andando a trovare la Roberta Anche adesso è messa per l'avanti Ma in frattempo la Roberta gli è salita male Gli è presa male Gli è andata in tettuccio sola A contremplare A un'ora dallo scoccare della mezzanotte Siamo ai crew Ai crew Mezzanotte e due minuti Roberta gli è bello schiantato Raudi Gli è bello fatto voti Ore 4 di mattino A casa Roberta Oh mamma Roberta Che fai? Postazione Fodero Direttamente Nick Cairo Per lo sgotto Per una sgotata più diretta Andiamo Roberta C'è tu ma C'è tu ma Oh Oh mamma Gli è rimasta la bocca ancora a forma Vabbè Diciamo le teose Oh vai Buon anno bucaioli Lascia un like sulla nuova pagina Ibellini